Io vorrei sapere, secondo lei, libertà coincide con felicità? Cioè, una volta trovata la libertà, ammesso che sia raggiungibile, troveremo un senso di pace, quindi di felicità, oppure ci porterebbe a una condizione, diciamo, peggiore per il nostro stato d'animo? Beh, a quello che dicevo prima, riporto al grande inquisitore, la libertà rende più inquieti che felici. Spinoza però ha trovato un termine latino alla fine dell'etica, acquiescensia. Cioè, essere liberi razionalmente ci mette l'anima in pace, non ci rende felici, ma ci mette in pace con noi stessi. Io ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto quello che potevo fare. L'alternativa, appunto, come la leggenda del grande inquisitore, è l'ignoranza. Oppure come nell'Ecclesiaste, che è un libro della Bibbia, no? Coelet anche. Normalmente si traduce in latino, qui auget sciensiam auget et dolorem. Ma lo posso dire, è classico. Chi aumenta il sapere, aumenta anche il dolore. Conseguenza che c'era in Dostoievski, da parte del grande inquisitore, è meglio stare ignoranti. Invece noi seguiamo un'altra tradizione che è quella della tragedia greca. È quella che trovate già in Erodoto, per esempio, che si potrebbe dire rovesciato. Qui auget dolorem auget et sciensiam. Chi aumenta la sofferenza, aumenta anche il dolore. Se voi, non so che tragedie fanno leggere in classe, si usa ancora, ma se leggete l'Edipo a Colono, c'è la spiegazione. Il sapere tragico, la tragedia non è quella in cui muoiono tutti, anche il suggeritore. La tragedia è quella, in Grecia, in cui si vede che il nostro destino non dipende dagli uomini, ma dagli dèi. Per esempio, vi ricordate, nell'Orestea è il voto di Apollo che decide la soluzione di Oreste che ha ammazzato la madre. Oppure, nella Medea di Euripide, quella ne ha fatto di tutti. Ha ucciso i figli per far dispetto al marito, una vendetta trasversale di tipo mafioso. Però si salva perché parente del Sole, Dio Sole, il Sole arriva con un carro e se la porta via. Quindi, quello che è la tragedia vuol mostrare è la nostra impotenza nel controllare il destino. Quindi, la libertà è rischiosa. Libertà, cioè, è certo per quello la gente preferisce stare nella tana, obbedire. È la scelta, come dire, più semplice. È quella che mi dà questa felicità un po' ottusa di stare tranquillo, tanto ci pensa. Quella che ha portato poi, per esempio, al nazismo. Tutti dicono, oppure in Italia c'era scritto sui muri, il Duce ha sempre ragione, anche da queste parti c'era. Se il Duce ha sempre ragione, allora io, se faccio quello che dice il Duce, sto tranquillo e vado avanti. Il problema è che quando il Duce cade, il 25 luglio, tutti quelli che avevano la tessera del fascio o la cosiddetta cimice, la maggior parte la buttano via. Perché? Perché uno dei misteri dell'autorità è che quando l'autorità sbaglia, e noi glielo lasciamo fare, la colpa è loro, non nostra. Quindi c'è un problema. In sostanza, noi attraverso la libertà non siamo necessariamente più felici. Siamo in pace con noi stessi, ma certamente dobbiamo scegliere tra una libertà rischiosa e una non libertà ottusa.